è diventato diciamo famoso non solo per la mia maglietta ma vedo che anche tu la indossi questo è un altro genere della mia maglietta, altrimenti sei uno dei primi simpatizzanti diciamo della prima o penultima ora come anche Razzi, Cucullo Razzi, Nicola Cucullo, ricordiamo il grande sindaco Cucullo con la mia maglietta Maschio 100% quindi ovviamente io in assoluto ti ringrazio della pubblicità che mi fa e anche se questa maglietta ce l'ha Massimo Giletti, Maurizio Costanzo l'ho data, l'hanno chiesto molti senatori, Scilipoti, c'è la del Debbio l'ho regalata del Debbio, la vuole Morelli per Salvini la vuole Morelli per Salvini, il popolo è allucinato quindi va bene, volevo dirti questo, innanzitutto allora vediamo qui ovviamente il tuo santino elettorale ovviamente Mauro Valentini ovviamente per quanto riguarda la tua lista per il candidato sindaco Bruno Diorio e per quanto riguarda azione democratica è la tua lista, giusto? ah sì sì assolutamente ecco volume per la regia mi dicono appunto di vabbè cercando di stare quindi anche oggi un pochettino vabbè quindi se ti sei candidato è una mostra importante che io pure feci tanto tempo fa ma non molto tempo fa anche a Chiedi con ottimi risultati quindi io mi auguro che i miei voti li date a Mauro Valentini perché io non sono candidato in questa tornata elettorale a Chiedi per quanto riguarda le elezioni comunali le hai voluto rilassare insomma molto rilassanato, non sto dietro le quinte ormai io curo dietro le quinte sto anche dietro il Gile Ragione, il generale Pappalardo, un sacco di personale Cilipoti, il senatore troppo impegno bravi, poi sicuramente adesso magari mi richiamerà del Debbio devo fare, dobbiamo andare a Milano preparatevi che vieni con me pure anzi indossando il Debbio è sicuro ci invita il grande del Paolo del Debbio che salutiamo in bocca al lupo per giovedì riprendere chiariamo anche questa cosa che noi siamo l'entourage dell'altro c'è il senso io sono il suo agente, lui è il mio agente non c'è il senso quindi ci aiutiamo già abbiamo lavorato insieme in tv quindi è chiaro che c'è tutta una squadra dietro di persone ma comunque siamo i principali referenti per quanto riguarda questo bravi e niente insomma per essere un pochino più allegri, positivi anche leggeri dopo tutte le segnalazioni, le problematiche, tutto quanto abbiamo voluto fare questa puntata più tranquilla, più serena nei nostri panni anche gli etero hanno i loro diritti come si dice io sono andato da Paolo del Debbio l'ultima puntata prima del lockdown era la puntata contro Luxuria con la lobby LGBT che poi è la lobby di governo quelli che ci stanno governando quindi non esiste solo la lobby LGBT ma esiste anche l'associazione maschio 100% lo dobbiamo ricordare per i diritti dei maschi, dei partiti separati, degli eterosessuali della famiglia cristiana intesa come padre e madre la cosa importante è che Mauro allora dici i tuoi progetti per chi innanzitutto come mai ti sei dovuto candidare perché comunque è un passo importante io l'ho consigliato, lo consiglio sempre perché comunque sempre far politica significa far valere i propri diritti e i diritti di chi ti vota e io vi invito a votare Mauro Valentini intanto vi invito chiunque a candidarsi se ha delle idee perché dato che abbiamo più di 500 candidati o si sono candidati così per gioco oppure ci sarà una motivazione non penso si siano candidati più di 500, quasi 600 non penso si siano candidati per sport quindi qualcuno forse sì ma al di là di questo io credo che se uno ha delle idee se vuole provare a fare qualcosa a capire come stare nel sociale nel mondo della comunicazione o con la tv o con la politica per questo abbiamo collegato le due cose sono i due mondi più forti assieme forse, non lo so, alla musica all'arte dove tu comunichi quindi se uno ha delle idee non ha paura di esprimerle e non vuole tenere alcune idee che sono come un brevetto sono sue, sono originali possono essere utili agli altri dentro uno scantinato dentro una casa perché non provarci? anche il nostro stesso candidato ricordiamo non è un politico esattamente come anche una lista civica come il collega anche Diego Ferrara sono due medici però come vedete non è importante adesso la direzione proprio professione lavorativa non è che deve essere per forza un politico ormai il partito in sega Romano non devi essere un politico ormai è la persona la credibilità di chi fa politica i partiti si vede che ormai anche una persona ha la prima esperienza politica fin da destra fin da sinistra si può essere un sindaco una persona ha la prima esperienza politica non è che devi avere per forza questo target anche perché ci sono stati sindaci a Chiedia senza fare nome ma avete forse già capito che sono stati forse troppo politici visto che hanno sempre ricoperto tutti i ruoli possibili di questa amministrazione quindi forse avere delle facce nuove avete mai visto alcuni di non dico che parlo anche a favore degli altri candidati perché comunque sto colmire cambiamo facce però comunque ho una grande amicizia anche con altri candidati sindaci che sono 5 ricordiamo in questa fornata elettorale sono 5 candidati al sindaco e circa 6 candidati consigli diciamo non tutti sono facce nuove no no però qualcuno sì certo tra cui anche il nostro di Iorio è certamente è un candidato nuovo per quanto riguarda quindi avere una persona che ti può rappresentare meglio perché ha vissuto la città e ha anche rinunciato mi ricordo anche quando Totti amava così tanto Roma che non era andato all'estero il capitano a me sembra la stessa cosa il capitano non Salvini di Iorio per Chiedi ma beh perché no assolutamente anche se diciamo sicuramente Salvini non viene certo a Chiedi se non prendersi un caffè o avere una felpa esattamente e anche oggi abbiamo fatto una appunto per il discorso anche della tua associazione che è un'associazione anche antirazzista beh sì sì ricordiamo bravo abbiamo contestato molto quelli che hanno questo orgoglio leghista l'orgoglio di che cosa dell'odio contro i poveracci che arrivano con i barconi che poi dicono che loro sono infetti sono giunto è allucinante e poi è veramente squale poi però verso i potenti potentati di turno lì tutti zitti a leccare i piedi quindi voglio dire è veramente allucinante quindi il cosiddetto il diverso ormai noi maschi 100% siamo i diversi come dicevo pure all'amico Luxuria il simbatico Luxuria e dice guarda ormai sono io il diverso non sei più tu Vladi lì da Letequan rigiro la domanda a te a questo punto anche quello che hanno detto oggi al comizio tra l'altro uno dei capolisti mi sembra non so se è della mia lista o di un altro non lo ricordo bene ha detto proprio questa cosa i leghisti a Chieti anche non sono in Italia hanno pompato il discorso della pancia delle persone e quindi dell'odio è una cosa che già andava avanti già andava avanti con il Movimento 5 Stelle che fa tanto quello che vuole togliere le poltrone poi governare insieme al Salvini no ma poi ricordiamo appunto questo fatto delle poltrone che è un finto togliere le poltrone perché tu sei anche a favore del no mi hai detto del referendum certo siamo per il no togliere dei posti non vuol dire togliere dei politici scrocconi diciamo così è semplicemente un voler fare io personalmente noi come associazione siamo no anche io sono no perché effettivamente come questi vogliono ridurre il Parlamento già adesso già non serve a niente adesso si riducono solo a pochi intimi e c'è una dittatura conclamata e quindi se tu ridurri poi anche col senato Razzi mi ricordo proprio abbiamo fatto allora pure per il no nell'altro referendum precedente ma se non ci sono le stesse percentuali non è equilibrata la cosa viene solo tolta in base a chissà quali burocrazie italiane una grande fetta di una certa una certa opposizione non lo so di un certo un certo colore un certo colore beh d'accordo che in Italia c'ha troppi parlamentari siamo d'accordo ma non usiamo questa scusa che dicono da 15 anni non l'avete tolti fino adesso li togliete adesso perché forse vi serve dare più spazio a qualcun altro per restringere la democrazia per stringerla perché noi che siamo veramente democratici appunto azione democratica la tua associazione tutto quanto noi siamo per qualsiasi colore appunto abbiamo parlato di antirazzismo popolare social popolare abbiamo parlato appunto sia di eterofobia e omofobia che non vanno bene in su un caso perché tanto noi siamo contro la violenza anche l'eterofobia è negativo quello che dicevo per noi che ci sia tra virgolette un fascista un comunista un leghista non è che ci dà fastidio l'importante c'è la libertà di obiettivo l'importante l'articolo 21 non per niente la mia trasmissione l'importante è che non facciano discorsi però come hai detto tu discorsi di incitamento all'odio non ci devono essere non devono essere forze politiche tossiche assolutamente che possono andare a rovinare la città quello è il problema assolutamente perché il leghismo a Chieti sinceramente fa ridere come ve lo dico molto sinceramente è proprio una cosa che non è possibile perché vai a ridurre ancora di più la chiusura cioè crea una chiusura mentale ulteriore di base da quel punto di vista perché il leghismo ricordiamo è nato di solito sia nell'estremo nord tu dici Chieti deve collaborare anche con altre province con altre regioni non è tanto questo ma quello è banale non è perché questo questo è chiuso certo tutto il mondo deve collaborare l'economia si ferma non è quello di questo tra l'altro il fatto che l'Italia fa gli imbarghi a Putin che non ci serve la cosa è così grande il problema è un altro che se tu prendi già una città come Chieti che ha delle difficoltà ad aprirsi anche ad essere interessante per gli altri nonostante può averne le possibilità a introiettare e gli dai pure quella parte di mentalità ancora più chiusa all'eghista dove andiamo a finire cioè diventa un feudo medievale ritorniamo all'antica teatro praticamente e c'è gente che vuole votare il cosiddetto favorito che pare abbia paura di noi visto che ci ha detto che siamo i quinti cosa è assurda l'impossibile dal sondaggio e quindi non credo proprio mi sembrate una mia imparziale opinione anche se mi sei simbatico poi conosco anche Bruno Giorgio sembra un bravo medico per cui comunque sia ripeto ecco così ne vedremo delle belle sicuramente andate a votare perlomeno chi va a votare le idee buone vedete un candidato io vi sto facendo vera informazione ecco un candidato giovane candidato consigliese spontaneo o intervistati altri intervisterò altri chi vuole 368 39 70 288 può telefonare la politica è fare è anche esporsi la politica è scendere tra il popolo con il popolo e per il popolo sì non dire banalità assolutamente io infatti quando si è scomodi è la volta buona che si dice diciamo un'altra cosa è una verità è scomoda diciamo un'altra cosa problematica Gesù Cristo duemila anni fa che non è morto di raffreddore una cosa problematica del voto a Chieti anche bisogna dire sì certo uno l'assenzionismo che ora non si può più fare bravo bravo un bel dubbio un bel grande dubbio perché c'erano magari degli scontenti c'era il voto di protesta dei 5 stelle di qua di là anche io stesso anche il medico stesso votammo oltre i 5 stelle ma ci hanno delusi come abbiamo visto beh sì perché diciamo l'odio contro il sistema sono diventati più sistema del sistema non solo ma da lì è nata la moda tra virgolette aspetta da lì è nata la moda dell'odio del voto di pancia cioè la Lega ha usato ha usato il reazionismo dei 5 stelle e guarda casa vanno insieme poi molte dei 5 stelle stanno con noi dei dirigenti da ragione sono delusi quindi scusate che programmi che programmi elettorali sarebbero fare la diretta streaming del consiglio comunale ma una stronzata vabbè ma comunque una stronzata anche il fatto che questo russo queste cagate cioè al fine sono 50 persone 100 persone che si votano tra di loro è come una setta per me io lo vedo molto settario poi questo quello che è certo è che 5 stelle e Lega non sono l'opposizione certamente in una città poco da suoto ma sicuro ma ormai lo vediamo lo vediamo anche dal governo Salvini e Lameloni non sono un'opposizione di nessuno sono d'accordissimo addirittura pare che Salvini voleva votare sì per il taglio dei parlamentari sono incredibili comunque io ti ringrazio per questa puntatura ovviamente per Mauro Valentini candidato consigliere comunale ciao a tutti Salvatore Marino alla prossima puntata grazie Mauro grazie ciao grazie a tutti